Siamo con Francesco Fazzari, dirigente del Futsal Polistena. Buonasera Francesco. Buonasera. Questa sera presentazione in grande stile al Castello degli Dei per presentare la squadra per una stagione che si prospetta esaltante in Serie A2. Sì, stasera c'è stata la presentazione della squadra con parecchi giocatori nuovi rispetto alla scorsa stagione i confermati sono stati solo Martino e Gallinica poi ci sono stati alcuni juniors che sono stati promossi in prima squadra e in più abbiamo presentato le nuove leve tra cui mancavano alcuni giocatori nuovi che arriveranno fra qualche giorno dalle vacanze. Cosa ti aspetti da questa nuova stagione Francesco? Speriamo sia più entusiasmante di quella passata. Sarà dura perché è un campionato nuovo, è il secondo campionato a livello nazionale dove ci sono squadre più blasonate della nostra. Noi punteremo a una selvezza tranquilla. Ci sono altre squadre che sono state costruite proprio per vincere il torneo. Però certamente il Futsal non se la giocherà con tutti perché comunque il mister Molluso vorrà una squadra all'altezza della situazione. Mancano ancora un paio di tasselli che però si spera possano ricongiungersi al più presto. Sì, questo sì. Speriamo che la squadra sia abbastanza valida e sul parquet esprima quanto di buono dicono i numeri. Il mister Molluso ce la metterà tutta come è sempre fatto. costruirà una squadra arcigna che darà filo da torcere a tutte le squadre che verranno a giocare. I giocatori metteranno in campo, grazie all'apporto di mister Molluso e di tutta la dirigenza con il presidente, vicepresidente e quant'altro, a dare l'anima per questa maglia, per questa squadra e soprattutto per questa città. È la prima volta che viene catapultata in questo campionato nazionale che mai nessun'altra squadra qua della provincia ha mai conquistato questa categoria. E si spera appunto che il pubblico venga numeroso a seguire la situazione del polizio? Sì, speriamo ci sia il pubblico nelle grandi occasioni come è avvenuto per le ultime partite della scorsa stagione dove il palzetto era gremito in ogni ordine, in ogni posto. Grazie.